Visto che il lavoro non si trova, una mano me la do io Giusto il tempo che papà ci sistema lo studio Eh sì, suo padre lascia lo studio a lui, mio padre lascia lo studio a me Non vi preoccupate, per tutta l'estate state qui da me al ristorante Però esattamente, la mansione che ci aspetta qual è? Eccola qua, una pulita alla cucina quattro volte al giorno E tu una pulita del pavimento della sala tre volte al giorno Però per essere ingrati o schizzinosi, ma io e lui abbiamo un titolo universitario Un che? Noi siamo entrambi laureati In che cosa ci avete sta laurea? Giurisprudenza, con tanto de magistrale, lui notaio e io avvocato Ah scusatemi tanto, io non lo sapevo proprio Aridatemi sta cosa, mo ve devo spiegare pure come funziona Questa si chiama scopa Si mette una mano qua, una mano qua E se la muovete pulisce pure per terra, guarda un po' E se la muovete pulisce pure per terra, guarda un po'